Bentornati a Crocchette, lo spin-off ufficiale di Book Crossing, il programma di Radio Beckett Evangelica che vengono da tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Parliamo di libri, di belle notizie e anche in questa settimana, nel bel mezzo di questo giugno che ci ha accolto un po' così alla sprovvista, abbiamo deciso di trovare il libro più bello che almeno per me personalmente volevo portarvi qui, in versione video e soprattutto con il mio sorriso. Sto parlando di 99 notti nell'Ougar, scritto da Jamil Gianco Ciai, edito Perenaudi, un libro molto nuovo, ha avuto un grandissimo riscontro dalla critica ma è passato un po' in sordina in Italia, quindi mi interessava potervene parlare. Questa settimana abbiamo parlato di estate, di come lo affronteremo, di quanta quotidianità recuperata, ripescata dal passato, cercheremo di metterci e questa, l'estate di Marwa, il protagonista, 12 anni di questo libro, è straordinario, perché lui ha 12 anni appunto è americano in tutto e per tutto, però i suoi genitori hanno origini afghane e per tantissime coincidenze sarà costretto in qualche modo a passare la sua estate nel paese di origine della sua famiglia. Sarà un viaggio avventuroso, sarà un viaggio pieno di scoperte e Marwa davrà anche l'opportunità di capire da dove viene, che forse per tutte le persone di seconda generazione che vengono da storie lontanissime è una delle domande più importanti. Un'estate, un ragazzino di 12 anni, tantissimi amici e anche una faresta piena di incanto, piena di pericoli e anche di tante tante risposte. Questo è il mio consiglio per questa settimana per voi, 99 notti nel Lugar Coach I e Naudi di Torre.